Ciao ragazzi e benvenuti a questa nuova puntata. Oggi parliamo di Pingalap. Allora, Pingalap è una isola, è un atollo di 2 km quadrati nella Micronesia. Non è veramente molto molto noto, quindi perché parliamo di Pingalap? Perché custodisce un segreto, un mistero, una cosa da investigare. Allora, ritorniamo a serie. Allora, 250 anni fa, più di 250 anni fa, perché stiamo parlando del 1775, si è schiantato su questa isola, su questo atollo, si è schiantato un tifone. Un tifone che ha ucciso la maggior parte della popolazione. Stiamo parlando del fatto che da questo tifone solo 20 sono sopravvissuti. Tra i 20 sopravvissuti c'era anche il re. Il re, Quahulhele, sono sicura di aver ucciso quella pronuncia. Allora, il re era sposato. Aveva tre mogli, sette figli. Un figlio si sposa poi con la sua cugina e succede un effetto collo di bottiglia, una deriva genetica molto molto importante. Questa deriva genetica prende piede da un gene recessivo del re, che non era semplicemente daltonico, che non aveva un gene del daltonismo, ma che aveva un gene recessivo della cosiddetta acromatopsia. Era recessivo, quindi il re non ne soffriva, ma è una malattia che non solo causa il lieve daltonismo che tutti conosciamo, quindi colori alterati, soprattutto per quanto riguarda il rosso e il verde, ma una malattia molto rara colpisce una persona su 30.000, dove si vede soltanto bianco, nero e grigio. E tra le altre cose c'è una fortissima sensibilità alla luce. E questo rende la vita di molti molto molto pericolosa, perché ovviamente è molto difficile anche, perché ovviamente fanno principalmente i pescatori, quindi non possono uscire quando c'è molto sole. Immaginate bene che siamo in Micronesia e che la pesca è un'attività che richiede molte molte ore all'aria aperta. La maggior parte della popolazione quindi vede soltanto in bianco, nero e grigio. E quindi mi viene da pensare, perché non ci trasferiamo tutti un po', no tutti, magari no, basta perché non ce la possiamo fare, ma perché non ci trasferiamo un po' tutti su questa isola, dove almeno ci rilassiamo, ci calmiamo, possiamo andare a pescare e magari qualcuno di noi si immergerà con la popolazione indigena. Questo sarebbe interessante e risolverebbe un quarto dei loro problemi, penso, no? Anyway, ragazzi, detto ciò, ci fermiamo qua. Se questo video vi è piaciuto, non dimenticate di commentare, lasciate i vostri commenti qui sotto, fateci sapere che cosa ne pensate, noi ci vediamo alla prossima con un altro video. Anche iscrivetevi al canale e lasciate un like se questo video vi è piaciuto e attivate la campanella per ricevere tutti i nostri aggiornamenti. Ciao!